Ascolti la gente che parla e loro non sanno che li ascolti. Con chi si parla? Non toccare niente. Voglio solo vedere se funziona. Ehi, ma che fai? Non toccare quei bottoni, se non ci fai scoprire. Dicacello S, che succede? Non parlare. Che c'è? Non parlare. Pronto. Ti do uno schiaffo! Ma chi è? Pronto, pronto, mi chiamo Casey Cook. Sono prigioniera in un sotterraneo con altre due ragazze. Ma chi diavolo è? C'è un po' di funerio carino? C'è un po' di funerio.